Buonasera e bentrovati. Un nuovo appuntamento di Terzo Millennio, lago della bilancia. Inspiegabilmente ci avviciniamo alle prossime elezioni amministrative e ancora non abbiamo i nomi dei candidati. Nel centro-sinistra ce ne sono forse anche troppi, da parte del centro-destra tutto tace. E' quello che cercheremo di capire, che approfondiremo nell'odierna puntata di Terzo Millennio e poi faremo anche un'ampia parentesi sulla giustizia, perché è qualcosa, ragazzi, nel nostro paese veramente fuori dal mondo. Ne parliamo con il Cavaliere della Repubblica, Pierluigi Granieri. Buonasera, ben arrivato. Ne parliamo con l'Avvocato Francesco Bianchi. Buonasera, ben arrivato. Ne parliamo con l'Onorevole Cristina Grancio, consigliera per Roma Capitale del Partito Socialista Italiano. Buonasera. E ne parliamo col Professor Alessandro Venturieri, segretario del Partito Liberale Italiano per la Regione Lazio. Buonasera. Buonasera. Allora, io inizierei subito con lei, Grancio. Allora, abbiamo la notizia, ormai la sanno tutti. Abbiamo un ulteriore candidato sindaco per quanto riguarda il centro-sinistra, ma non siete troppi? No, io devo dire che l'offerta politica è importante, soprattutto è importante che si siano candidate le donne. Ho avuto l'onore di essere la prima ad aver scelto questa strada e quindi rivendico questa mia scelta, rivendico la scelta del partito che ringrazio ovviamente di aver creduto in me e credo che avere la disponibilità di un ampio ventaglio all'interno di una collezione del centro-sinistra, dove ovviamente c'è il partito di maggioranza, diciamo l'azionista di maggioranza, chiamiamolo così, che ha una lunga storia su Roma e che quindi ovviamente sarà soggetto a tutta una serie di considerazioni per quelli che si sono candidati, è importante. Il partito socialista ovviamente entra in una situazione di rottura con il partito democratico, perché ovviamente la Roma che vediamo oggi è anche le conseguenze del partito democratico. Mi perdoni, questa è una cosa che mi incuriosisce molto, rottura in che senso? Cioè voi partite, ci sono una serie di candidati ovviamente, a oggi va tanto di modo autocandidarsi, possiamo dirlo, no? Ma meno male che va di modo. No, è una cosa assolutamente importante, se uno se la sente lo fa, però poi diciamo tutta la collezione del centro-sinistra parte tra virgolette con una lotta tra vari partiti, no? C'è una grossa divergenza tra voi, tra il PD, tra il Movimento 5 Stelle. Allora poi ci sarà un candidato unico e poi come si fa a ricompattare questa situazione? Beh, è importante che ci sia una forza come il Partito Socialista di rottura, nel senso di voler vedere con estremo realismo quelle che sono le conseguenze... Quella è in foto, lei? Aspetti un attimo. Sì, sono io, scusate. Complimenti per la scelta, prego. Nel senso di essere realisti che se si vuole andare a governare Roma bisogna avere una linea politica che, diciamo, ascolti quelle che sono le opposizioni, opposizioni interne alle coalizioni. Che provi ad ascoltare, aggiungerei, perché in realtà... Che provi ad ascoltare, perché non è semplice, perché soprattutto venti anni di storia del, diciamo, del governo di Roma, del PD, hanno portato a quello che oggi vediamo, la città. Cioè, è stato anche questo le conseguenze del, diciamo, del governo Raggi, perché, parliamoci chiaro, il governo Raggi... Però se poi lei passa ci deve governare insieme. Ovviamente io spero che questa coalizione si allarghi sempre di più, che porti dentro anche forze che sono più di sinistra, perché ritengo che siano assolutamente una risorsa per poter contrastare ancora di più e ancora meglio quelli che sono stati i binari fino ad oggi del PD su Roma. Le aspettano sicuramente mesi molto, molto faticosi, perché sappiamo benissimo che, a prescindere dai risultati, insomma, tutti i passaggi sono molto, molto complicati, bisogna... Sì, io, diciamo, per la prima volta ho provato la giornata della candidatura, è stata molto emozionante, ma poi effettivamente... Beh, la vedo soddisfatta comunque. Sì, no, soddisfatta. A prescindere da come vada è una bella soddisfazione. Venturiani, invece, del suo partito che fa? Come si colloca? Perché noi ancora non l'abbiamo capito. Lei rimane sempre, diciamo, molto coperto, tra virgolette, un po' come il candidato del centrodestra, che ad oggi ancora non conosciamo. Anche lì c'è una coperta, c'è la coperta di Snoopy che lo copre, nessuno ce lo comunica. Voi che farete? Ma noi qui a Roma, decisamente, non è che siamo coperti. In questo momento siamo distanti, sia dalla coalizione del centrosinistra, sia dalla coalizione del centrodestra. Osservate gli eventi, potremmo dire. No, non è che osserviamo. Noi poi tra l'altro siamo, ripeto, un partito più di contenuti che di proclami. Per noi, per esempio, la partecipazione alle primarie di un soggetto politico è sicuramente un qualcosa di positivo. Noi comunque, sostanzialmente, siamo per un sistema democratico. Ma quello che mi fa riflettere, e su questo sistema delle primarie, che benvengono a tutti i livelli, le facesse anche il centrodestra, è per quale motivo che quando parliamo di situazioni rognose come Roma, allora diamo la parola ai cittadini e diciamo scegliete voi il sindaco che vi piace di più. Poi quando si tratta di andare a eleggere situazioni ancora più importanti per le sorti della nazione, e parlo del Parlamento, dove poi verranno nominati i ministri e il presidente del Consiglio dei Ministri e anche il presidente della Repubblica, perché i dirigenti di partito non interpellano nei vari collegi i cittadini? Quindi fare delle primarie, come fanno in America, anche sui collegi. Perché questo non avviene? Allora queste primarie sono un sistema democratico che per noi va più che bene o sono un sistema per accreditarsi all'interno della coalizione? Perché io con tutto l'affetto, la stima e l'amicizia che ho per Cristina e ci conosciamo da tantissimi anni, io credo che la sua candidatura, io sarei ben felice se lei riuscisse a spuntarla rispetto agli altri candidati, ma ritengo che la sua sia una candidatura più del suo partito per dire noi ci siamo e siamo all'interno della vostra coalizione. Allora, diciamo che c'è un aspetto assolutamente importante che è quello di essere presenti ovviamente sul dibattito politico ed in più c'è l'opportunità che è quella di dire la propria in assoluto a contrapposizione con quella che è l'azionista di maggioranza. Perché se così non fosse, allora parliamoci chiaro, queste primarie significa semplicemente scegliere chi. Chi ha più visibilità, chi è più bello, chi è più bravo, chi è più simpatico. Quindi è assolutamente indispensabile che chi si mette nella condizione di partecipare a queste primarie abbia poi la possibilità e la libertà di dire la propria posizione anche in contrapposizione. Mi permetti un attimo, velocemente, sentiamo anche un po' la voce delle competenze, no? Allora, perché poi è fondamentale confrontarsi con le competenze, con le persone che vivono il campo, con le persone che soffrono e con le persone che cercano di risolvere i problemi. Quello che poi non fa la politica nel macro-universo del palazzo, no? Lì spesso e volentieri non c'è questo confronto poi con le categorie. Allora, Avvocato Bianchi, lei cosa vorrebbe che un sindaco facesse su Roma? Cioè, tre cose, tre cose che dice... Cioè, il nuovo sindaco vorrei che facesse questo, questo e questo. Cosa? Guardi, sono molte le cose che mi piacerebbe il sindaco facesse, però sicuramente, secondo me, dovrebbe lavorare sulla viabilità. Quindi viabilità, prima. Sul patrimonio artistico-culturale... La valorizzazione. La valorizzazione del patrimonio artistico e del turismo, ovviamente. Sì. E in generale sulla qualità della vita. E che significa? Vuol dire qualità della vita, vuol dire cura degli spazi verdi che abbiamo, cura del decoro urbano, della sicurezza anche, se vogliamo. Cioè, di rendere la città più vivibile. Più appetibile, vorrei dire. Una cosa che mi fa molto incazzare, poi la stessa domanda la voglio fare anche al nostro cavaliere Pierluigi, cavaliere non mascherato. Cavaliere, bisogna dirlo, non lo era anzi solo il cavaliere. C'è anche altre persone, insomma, che sono cavalieri della Repubblica. La cosa che mi fa molto incazzare, soprattutto, è che un sindaco dovrebbe fare, perché è una cosa molto complicata governare Roma, no? Non ci è riuscito, non l'ha fatto bene nessuno. Roma ha un potenziale enorme, è la città più bella del mondo, ma è anche quella trattata peggio. Cioè, tu vai nelle città, non so, le nostre competitor sul turismo, Berlino, Parigi, che hanno un decimo delle cose che abbiamo noi e hanno più turismo. Questa cosa veramente mi fa proprio incazzare terribilmente, perché vuol dire non saper valorizzare e non saper sfruttare l'immenso patrimonio sia di verde, come diceva l'avvocato, ma anche l'immenso patrimonio monumentale che abbiamo. Tre cose, Granieri, da chiedere a un sindaco. Allora, la prima di non fare una propaganda per la sua ricandidatura, perché ci sono delle persone, perché lei ha fatto vedere che ha un'agenda, per esempio, dove rispondeva tante persone, però le persone che gli mandavano una PEC, come ho visto in televisione, di una signora che era in difficoltà, quindi chiedeva alcune cose, non hanno neanche risposto. Quindi lavorare sulla burocrazia. Poi, per esempio, ci sono dei posti come Bassoggi, che è una residence, dove ci sono dei ragazzi che potrebbero emergere, però hanno fatto vedere che quella struttura è in decadenza, quindi avrebbe bisogno di manutenzione. Però invece andiamo a vedere altre cose, che ne so, il campo Rom, quindi dobbiamo spendere milioni di euro, quando ci sono famiglie italiane che hanno bisogno di essere rintegrati, perché veramente lì è proprio uno scempio in quel posto. E quindi aiutare queste persone, quindi non lasciarle proprio così per strada come stanno facendo, quindi riqualificare tutte le abitazioni che ci sono, tutti i quartieri, e non lasciare quei quartieri, soltanto quelli a nord. Assolutamente, riqualificazione delle periferie. Poi? Aiutare anche i ragazzi, per esempio, ecco, rifaccio sempre l'esempio di Bassoggi, c'erano dei ragazzi che dimostrarono di fare ginnastica, no? Quindi aprire delle palestre a costo zero, farle addirittura, come si dice, farle governare da loro, quindi senza... Cioè che non vuol dire autogestione, dargli la possibilità di aprirle. Esatto, quindi queste sono le cose che uno dovrebbe fare per poter andare avanti. Quindi la terza cosa, se ho capito bene, mi perdoni, che è una cosa assolutamente importante e condivisibile, è cercare di aiutare i giovani nella loro direzione. Certo. Giusto? Cioè permettere ai giovani a livello economico... Allora, partiamo da un presunto, innanzitutto un presunto fondamentale. Dato che all'interno del lago della bilancia, noi parliamo principalmente di Roma, su Roma, diciamo, da tutto questo piano marcia, da tutti questi miliardi e miliardi che stanno pian pianino arrivando proprio a gocce, per Roma sono stati messi in campo solamente 500 milioni. Cioè una cifra, mi perdoni, se lei sarà la futura sindaca, io glielo vorrò ripetere, ridicola, perché non ci fai nulla. Quello che dice Granieri è assolutamente condivisibile, cioè pieno di ragazzi che in realtà hanno delle idee, vogliono fare delle cose, e si trovano sempre le porte chiuse. Questo diceva lei. Ma ci sono dei palazzi che sono in disuso in qualsiasi zona di Roma, quindi invece di lasciarlo in mano a delle persone che abbiamo visto più volte in televisione, a un degrado enorme, riqualificarli, quindi dargli la possibilità di poter frequentare una palestra, perché una palestra è importante, perché le persone si ritrovano, quindi possono essere allontanati da certe idee che potrebbero nuocere al ragazzo. Quindi sarebbe una cosa molto bella. Aiutare i giovani con dei fondi stanziati ad hoc invece di aiutare tantissime persone che spesso e volentieri poi in realtà se ne approfittano, non hanno bisogno, ma un giovane che non si può permettere di andare per esempio a fare sport, che quindi lo togli dalla strada e vai a lavorare sulla base della microcriminalità, questa potrebbe essere un'idea. E tante altre, c'è un trend di sviluppo e di aiuto ai giovani soprattutto nelle periferie dove in realtà c'è molto poco. Abbiamo fatto una puntata ad hoc proprio sulle periferie. Mi sembra che c'era lei, professore. C'è proprio un disdrivello, come ha detto Pocanzi Granieri, tra il centro di Roma, che sono più o meno, mi sembra siamo 1 a 10 come rapporto abitativo, e le periferie. Cioè nelle periferie spesso non ci sono neanche i servizi essenziali. Poi è normale che i giovani non hanno nulla da fare, hanno difficoltà a muoversi, hanno pochi soldi, magari prendono una brutta strada o ancora peggio, non riescono a cavalcare quello che è il loro sogno. La cosa che più, diciamo così, vuole ricordare è il fatto che tutti i sindaci che si sono succeduti negli ultimi 25 anni hanno fatto di questa problematica la loro campagna elettorale. Cioè sostanzialmente la riqualificazione delle periferie la sentiamo continuamente in tutte le campagne elettorali. Poi sostanzialmente viene fatto poco e nulla. Io, l'unico sindaco che mi ricordo che qualcosa diciamo... Non mi dica Rutelli un'altra volta. Beh, diciamo che Francesco Rutelli sulle periferie un minimo in più di attenzione l'ha avuta. No, ma non è carità. Poi Roma è stata amministrata, lo abbiamo visto, insomma, sicuramente non bene diciamo nella seconda repubblica. però Francesco Rutelli guardi, faccio un esempio su Francesco Rutelli noi oggi parliamo di ciclabilità. Sì. La pista ciclabile più importante che abbiamo a Roma è quella che ha fatto Rutelli. Queste della Raggi proprio non gli piacciono a lei. Queste non sono piste ciclabili quelle sono delle strisce fatte con la vernice sulla strada senza nessun voglio dire veramente criterio di conoscenza della ciclabilità di una città perché le posso dire cosa penso? fare le nozze con i fichi secchi cioè se si pensa di aver fatto 150, 200, 500 km di piste ciclabili in quel modo era meglio non farle perché le piste ciclabili vanno fatte con l'ampliamento dei marciapiedi con logicamente la sistemazione in alcune aree che magari dove ci sono adesso dei parcheggi allora è chiaro che questi sono interventi che hanno un costo ma se dobbiamo assistere a quel tipo di pista ciclabile voglio dire abbiamo delle proteste da Ostia al terzo municipio non le piacciono Andrea De Priamo ben arrivato eccoci ben arrivato ce l'abbiamo fatto consigliere per Roma Capitale per Fratelli d'Italia innanzitutto buonasera come sta abbiamo parlato del candidato sindaco del centro-sinistra ce ne sono veramente in quantità industriale ne abbiamo uno qui in studio oggi buonasera Andrea ciao 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 per quanto riguarda invece il centro-destra io continuo a punzecchiarvi per capire se c'è un nome ma niente tutto tace ma come mai ma diciamo che che tutto tace non è vero nel senso che noi stiamo chiaramente lavorando per arrivare a una definizione io credo che il riferimento che fa giustamente al fatto dei nomi è legato proprio ad evitare chiedo scusa ma sono come vedete in Capitoglio sì sì ok ad evitare un inutile trotonomi perché credo che capisco ovviamente le esigenze non solo vostre ma di tutti i colleghi i suoi colleghi giornalisti che anche spesso ci contattano e ci chiedono giustamente diciamo anticipazioni o novità però io credo che il centrodestra dovrà visto che ormai siamo in una fase effettivamente dove è giusto andare ad individuare il candidato sindaco e andare direttamente con un'indicazione di un nome quindi cerchiamo di evitare un totonomi che poi sia deleterio perché in qualche modo fiacca quella che invece è una situazione di entusiasmo per quanto ci riguarda rispetto alla possibilità di avere un cambiamento per la città al di là degli aspetti prettamente elettorali per noi quello che è importante diciamo è avere una possibilità di un nuovo passo allora mi perdoni Roma è una città assolutamente difficile nonostante il professor Venturieri ha citato un sindaco a nostra detta non l'ha governata bene nessuno è una città molto molto problematica quindi il candidato si troverà veramente il futuro candidato che spero ci svelerete in tempi brevi si troverà ad affrontare una situazione molto difficile ma soprattutto con un budget assolutamente risicato abbiamo detto poc'anzi che dal piano Marshall tante volte citato arrivano per Roma solo 500 milioni di euro ma sono una cifra veramente ridicola mi perdoni un candidato dovrà fare veramente i miracoli per far funzionare questa città rifunzionare ecco utilizziamo un termine adeguato sì sì assolutamente quello che è stato previsto nel piano del recovery fund è praticamente equivale ad un anno delle reate dell'indebitamento di Roma Capitale ma come mai sta cosa c'è una cosa proprio improponibile no? sicuramente c'è stata poca attenzione la verità è che tutti parlano da adesso da pochi mesi a questa parte della necessità per Roma di una riforma ma noi lo abbiamo fatto da inizio consigliatura parlano gli atti il primo atto portato da Giorgia Meloni approvato dall'Assemblea Capitolina e parlava di riforma di Roma Capitale la recente emozione in Parlamento oggi tutti parlano di riforma però chi governa magari poteva dare un segnale molto chiaro quello di dare un'attenzione anche come risorse economiche alla città come le hanno tutte le capitali non direi europee direi del mondo perché se noi andiamo qualsiasi continente ogni capitale degli stati mediamente diciamo avanzati ha delle leggi e anche delle risorse dedicate per le capitali perché tutti capiscono che la propria capitale è un biglietto da visita per tutta la nazione e mi perdoni che per Roma però è anche peggio lo stavamo dicendo poc'anzi perché Roma ricordiamolo è la città a livello storico a livello monumentale ma anche a livello di green di verde e con il potenziale in assoluto la migliore e la più bella al mondo questo è indiscutibile però diciamo a livello turistico poi ci facciamo sorpassare da altre capitali europee tipo Parigi tipo Berlino semplicemente perché sono meglio organizzate quindi è condivisibile quello che dice lei però ad oggi Roma in realtà è una perla che non brilla assolutamente quindi il tema è che Roma dovrebbe recuperare competitività rispetto anche alle capitali che ha appena citato ma anche altre ahimè che hanno messo in campo queste riforme dove si davano da un lato poteri ma anche risorse penso alla Gran Parigi Parigi ha costruito un'intera infrastruttura sulla scorta della riforma ha creato dei comuni i cosiddetti arrondismen sono dei comuni a tutti gli effetti noi abbiamo ancora i municipi che sono qualcosa un po' indeterminato gli abbiamo cambiato il nome ma di fatto sono un po' le vecchie circoscrizioni di decentramento amministrativo e poco più invece dovrebbero essere a mio avviso almeno e anche per quanto riguarda Fratelli d'Italia dei veri e propri comuni metropolitani allora velocemente poi parleremo velocemente di giustizia perché mi interessa Grancio è d'accordo almeno su alcune cose di depriamo non le chiedo su tutto perché non pretendo l'impossibile diciamo che ormai chi ha governato Roma si rende conto che ci sono delle necessità improcrastinabili uno di queste è mettere mano al decentramento amministrativo che ovviamente è lo strumento che ti permette quindi su questo siete d'accordo ma su questo ormai siamo d'accordo tutti perché non è possibile non è che mi fanno una colezione poi con Fratelli d'Italia no anche se stimo molto il collega e devo dire che questo ormai è un aspetto di cui tutti ci siamo resi conto e sul quale non si può più tergiversare e un'altra cosa assolutamente importante è il fatto che Roma dal mio punto di vista e dal punto di vista secondo me riconosciuto da tutti ha un'offerta culturale gigantesca rispetto alle altre e quindi c'è il rischio che se non la si sa gestire se non la si sa organizzare in realtà si scelgono sempre le stesse cose ed è questo quello che è successo cioè il nostro turismo non è un turismo organizzato non è un turismo tra l'altro legato alle convention legato all'attività culturale internazionale che è secondo me questa la proposta che va fatta su Roma legata sia diciamo al valorizzare i nostri beni architettonici o culturali e aiuterebbe questo anche a valorizzare il turismo perché diventerà un turismo diciamo in qualche modo fra virgolette organizzato nella mala gestione della nostra città ovviamente ha detto prima una cosa granieri voglio sentire bianchi poi sentiamo anche granieri su questo che riguarda ovviamente il rischio di criminalità soprattutto nelle periferie avvocato c'è un problema tavico in Italia fondamentale che è quello della giustizia qui da anni si parla di riforma della giustizia ne parlano tutti nel momento della candidatura tutti dicono riformiamo la giustizia ma poi non lo fa nessuno ma qui i processi vanno avanti 5-10 anni non se ne esce vivi certo quello della riforma della giustizia è uno dei problemi principali che ci viene sollecitato anche dall'Europa per il resto nel piano nazionale di resistenza e resilienza viene indicato proprio come uno degli elementi fondamentali per lo sviluppo economico il problema è che bisogna dare risorse come tutte le cose bisogna dare risorse affinché le cose amministrative funzionino meglio la mia sensazione è che si cerchi di fare da anni delle riforme invece legislative che tendono sostanzialmente è vero alcune cose potrebbero essere utili però a mortificare il problema dei diritti perché i processi penali che civili amministrativi servono a stabilire dei torti e delle ragioni servono a stabilire chi ha ragioni dei diritti e semplificare troppo il processo vuol dire poi fare ingiustizia però mi ha detto una frase in una puntata precedente quando è venuto l'ospite Pierluigi Granieri ex ispettore superiore di polizia di stato e cavaliere del lavoro dicendo sì però spesso io poi quando facevo il mio mestiere prendevo i delinquenti per usare un termine abbastanza comprensibile e poi dopo un anno due tre vedevo che stavano ancora fuori tranquillamente a non far nulla cioè poi c'è una divergenza tra il lavoro effettivo e tutta la fase processuale non è unita hai allungato già troppo un anno o due anni proprio dove hai fatto una strage per stare dentro quindi ma la cosa assurda è che quando tu vedi in televisione una persona che al commento dove gli dice ma l'ergastolo secondo te dice io ho votato per toglierlo chiaramente perché una persona a 70 anni che cosa vuoi che faccia sarà cambiato io gli vorrei che quella persona andasse da quel signore anziano che stava mettendo i soldi per il parcheggio sotto all'ospedale e quel signore che è stato arrestato quindi con una è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso tre carabinieri e una donna gli hanno dato un permesso premio e lo stava sgozzando con un taglierino dopodiché è stato trovato alla fermata della metropolitana sporco di sangue e è stato arrestato oppure quello che ha ammazzato la tiracina che ha fatto quella strage gli hanno dato un altro permesso premio secondo te la giustizia è troppo morbida questo che sta dicendo tu hai commesso un reato e lo devi pagare fino alla fine io non posso io salto dal letto adesso questo ultimo periodo perché chiaramente non puoi uscire non puoi far nulla sento delle trasmissioni dove il terrorista che sta in Svizzera dice ma questo giustizialismo bisogna capire ma fagliela far capire a quelle persone che stanno sotto terra che avete ammazzato guarda vi rinvito perché questo è interessante avvocato secondo lei la giustizia è troppo morbida lei fa il penalista poi insomma cioè da quello che abbiamo detto lui è diciamo ha fatto questo mestiere ha vissuto degli episodi particolari e giustamente è incazzato quando vede delle situazioni che poi persone che hanno fatto delle cose molto gravi per esempio dei tipi di omicidi vengono puniti come dei reati fiscali cioè qui c'è qualcosa di strano non è proprio così non mi trovo mi trovo in disaccordo su quello che dice il cavaliere la questione è che a fronte di episodi sicuramente ci possono essere degli episodi in cui si è data come dire fiducia dei soggetti perché poi la pena a un certo punto finisce la pena in Italia ha anche una funzione rieducativa e mi stupisce che il cavaliere della Repubblica prima parli giustamente e in maniera apprezzabile di riqualificazioni delle periferie parli di Bastoggi Bastoggi è un luogo dove è altamente criminogeno dove ci sono molti soggetti e dica una cosa giustissima che invece va controcorrente sull'affermazione successiva e cioè il fatto che la pena cioè che la criminalità non va affrontata soltanto con la pena e la detenzione carceraria perché il carcere è il luogo dove si formano i criminali anche quelli che prima non lo erano vi rinvito su questa cosa voglio finire ragazzi voglio finire il discorso perché è proprio riqualificando un po' una pausa gliela concedo un secondo devo finire il discorso quello che dice l'abbagato è giusto a metà io sto dicendo se tu commetti un reato lo devi pagare tutto quando esci poi vediamo come va ma se noi mantieni certo ma infatti si pagano in Italia i reati e ci sono anche quello che dice lui è che non si pagano ci sono anche persone innocenti dentro persone che è la storia quotidiana della nostra giustizia ne riparliamo vi rinvito vi devo salutare ringrazio per Luigi Granieri Cavaniere della Repubblica grazie questo è interessante perché anche io qualche rigatuta su Roma la vorrei dire allora vi rinvito facciamo come no assolutamente una puntata vi metto distanti così potete discutere quanto volete ringrazio l'avvocato Francesco Bianchi grazie saluto a tutti ovviamente ognuno dice lui ha vissuto il campo lei fa un altro mestiere ognuno dice la sua è questa la bellezza di questo programma libero e indipendente ringrazio l'onorevole Cristina Crancio grazie a voi buonasera candidata a sindaco a Roma in bocca al lupo ringrazio il professore Alessandro Venturieri grazie e ringrazio Andrea De Priamo grazie spero di riaverla presto magari la prossima volta con un po' più di tempo De Priamo volentieri volentieri purtroppo oggi c'è il fatto della seduta e ha creato un po' di bucci ci saluti quel posto meraviglioso che è il Campidoglio a presto il posto sì pensavo che mi diceva di candidare la sindaca preferisco evitare di salutare la sindaca sono stato chiarissimo De Priamo la saluto l'appuntamento con il terzo millennio torna immaccabilmente domani grazie di averci seguito buonasera grazie a tutti